Una cosa che voglio far vedere ai miei ospiti in studio, mi fate vedere per favore Salvini su Roma, perché la Lega si prepara a prendere Roma, fatemi vedere. Ah ecco. Era stamattina... Eh, se ci chiamano noi ci siamo, a genere erano tanti, tra commercianti, taxisti, passanti, niente, dai e Mattei, vieni a fare il sindaco. Dai e Mattei, l'audio non è strepitoso. Sai come sarà contenta? La potrei fare qualcosa. L'audio non è dei migliori, però noi sappiamo perché. Bravo Pierluigi. Migliorerei l'audio, diciamo. Però dice sostanzialmente noi siamo pronti. Sarà contenta la Meloni? La raggi, fatemi vedere. No, ma la Meloni, poi la Meloni è felice. Arrivo Zurlo, raggi. A Roma si dice, si risponderebbe così, Salvini magna tranquillo. Grazie. C'è un bel clima, eh? Un bel clima, un bel clima, un bel clima. Perfatti Salvini è tranquillo, è lei che dovrebbe stare un po' meno tranquilla. La Meloni non è tranquillissima, non è tranquillissima. Non ancora? No. Zurlo? No, no, è divertente che se si fa per dire, visto che giochiamo con la storia, la marcia su Roma è il 25 aprile, sarebbe perfetto come un collegamento. Grazie a tutti gli ospiti per essere stati con noi.